Continua la campagna di vaccinazioni nei presidi del Cilento, precisamente al San Luca di Vallo della Lucania e da sabato anche all'ospedale civile di Agropoli. Nei giorni scorsi sono state consegnate le prime dosi di vaccino anti-covid nei quattro ospedali individuati come Ab, Asla, Salerno, Nocera Inferiore, Polla, Vallo della Lucania e Battipaia. Si tratta di una prima consegna di 975 dosi di vaccino per ognuno dei quattro ospedali, per un totale di 3.900 fiale assegnate all'intera azienda sanitaria locale di Salerno. Come previsto dalle indicazioni del Ministro della Salute, le prime vaccinazioni sono state destinate a una piccola parte di medici, infermieri e operatori sanitari che da quasi un anno combattono in prima linea contro il nemico invisibile. I vaccini sono arrivati anche presso l'ospedale civile di Agropoli, le vaccinazioni sono iniziate sabato scorso e da questa mattina sono in corso altre vaccinazioni su altro personale medico ed infermieristico. Le vaccinazioni continueranno anche nei prossimi giorni. Sono circa 100 i sanitari tra personale medico ed infermieristico presenti nel presidio ospedaliero agropolese.